Sono gli alberi di via Falea e Trangolo via Don Menzoni ad essere stati abbattuti stamattina. Alcuni cittadini allarmati hanno segnalato l'accaduto anche tramite social. Nei casi in cui ci sono alberi pericolanti sono le forze di polizia locali a ricevere le richieste di intervento da parte dei cittadini. Questo si verifica anche per il fatto che gli enti locali hanno la responsabilità della cura del verde pubblico, specie limitando le folte chiome di alberi che possono appesantirli fino a provocarne instabilità e caduta. Dopo la segnalazione, prima degli interventi radicali come l'abbattimento, viene effettuato un sopralluogo per valutare le condizioni di stabilità e di effettivo pericolo in modo da attuare tutti i comportamenti del caso. Gli alberi situati in parchi pubblici o via alberati o stradali richiedono segnalazione al comune. In questo caso, poi ci spiega l'assessore Frangiamone, si tratta di un privato che ha effettuato l'iter previsto e non di verde pubblico.